Venevo ad evidenziare un aspetto, siamo qui, siamo qui a discutere e a confrontarci sui temi della formazione e dell'accrescimento culturale dei consulenti senza dimenticare che questo porterà ad un accrescimento culturale, porta costantemente ad un accrescimento culturale anche dei cittadini e io spesso dico che l'educazione finanziaria per quanto attualmente è normale abbiamo fatto tanto, sappiamo quale impegno ha posto in essere l'associazione attraverso le proprie proposte sul tema, ma dico sempre che l'educazione finanziaria è una dimensione quotidiana, si fa giorno per giorno dentro le famiglie italiane, nel contesto, nell'ambito delle famiglie italiane, proprio confrontandosi su questi temi e cercando di migliorare l'approccio, i comportamenti e le scelte. Fare cultura dentro le famiglie significa aumentare la competitività del sistema socio-economico e quindi indirettamente la competitività del Paese stesso.